Da oggi in Italia vengono distribuiti alle regioni i primi rifornimenti dei nuovi vaccini anti-Covid aggiornati all'ultima sottovariante di Omicron, mentre il Ministero della Salute ha preparato una nuova circolare ad hoc. Le categorie per le quali è prevista la priorità per la vaccinazione sono gli over 65 anni, le persone fragili per problemi di salute, le donne incinte, il personale ospedaliero e sanitario e se ci sarà ancora disponibilità, il vaccino potrà essere fatto a chi ne fa la richiesta. Vaccino che il Ministero raccomanda di somministrare in accoppiata con quello anti-influenzale. Le vaccinazioni dovrebbero partire a ottobre e coinvolgere anche medici di base e farmacie. Intanto isolato in Italia Pirola, nuova variante del virus che potrebbe sovrapporsi o soppiantare Eris a sottovariante di Omicron per la segreteria della società italiana malattie infettive tropicali, non è detto che Pirola possa causare grandi numeri di infezioni o portare una malattia più grave.